Vai Pio, vai 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 Ti vogliono troppi cup Allora, la partita tra San Lorenzo e Martorelli Fino a 4 a 2 5 a 2 È stato il migliore in campo dei Martorelli Quindi contro San Lorenzo Ottima prestazione Vediamo un po' Passo la prova all'inviato a San Lorenzo Giovanni Giuseppe Benissimo, benissimo Tutto questo grazie ai miei compagni in africano E pistone Certamente noi dobbiamo vincere pure le prossime partite perché vogliamo vincere Il torneo addirittura Perché abbiamo fatto una scommessa con Sergio La caparra è nostra Domande allo studio Sì, io volevo domandare allo studio quanti gol hai fatto oggi Uno grazie a me Uno grazie al mio gemello Ok dai, devo giudere la linea perché la Rai sta chiedendo, sta aspettando il giocatore Ok, ok, ok Ringraziamo tutti, un ciao dallo studio Ciao ragazzi Ciao ragazzi